come si chiama? Akira! Akira! Akiraation! Invece che dire Shakira, Akira! Akira! E' la figlia di Shakira! Io dico la figlia di Shakira! E' la cucciola. Oh Dio! Mamma mia! Che bello! Ma quanto avete pagato? La metà, però tanto. Eh immagino, immagino. Mamma mia! Akira, Akira! E' la figlia di Shakira! Sembra un caldo. Sembra un peluche! Eh piccolino. Mamma mia! E' un leone mix, orso. Sì, sì. E' una cultura mitologica. Mi piacerebbe portare una tipo così in Pilippini. Uno di questi. E' un po' di caldo. 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 Ma no, ma sai che il pelo non c'è. Il pelo lo copra. E' un po' di caldo. Ah, quindi si possono anche vivere in posto caldo. Sì, in posto caldo. Se poi è tanto caldo, non conviene tagliarli un po' per. E poi lasciarlo piccolo. Sì, sì. Mamma mia! Che bella! E' un po' di caldo!